...della Trevigliese e Conca della Massi, eccoli là in fondo, è lanciata la volata, sono gli ultimi 100 metri conclusivi, 100 metri conclusivi, è volata, vedo maglie del team Per Norris Mattia, anche campione provinciale, Berra Damasco Chi la dura la vince, Mattia Norris dopo tanti piazzamenti, finalmente è arrivata a vittoria qui al provinciale di Bolgare, allora raccontaci come è andata All'inizio c'è stato un po' di bagarre nei primi giri, scatti contro scatti, però era un circuito abbastanza veloce, si raggiungevano a alte velocità anche grazie al vento, e non riuscivano ad andare via dai gruppetti, sulla salita del Gandosso siamo riusciti a fare un gruppettino che poi aveva mantenuto vantaggio fino all'arrivo, nonostante diversi scatti contro scatti, e qua in volata, siccome sono abbastanza veloce, ce l'ho fatta a vincere Ce l'hai fatta a vincere per un pelo, perché Pini non ha mollato fino al colpo di Reni in sostanza, e avrei vinto credo di 4-5 centimetri Sì, ho vinto di poco, perché un compagno di squadra di Pini aveva cercato di anticipare e quindi per cercare di chiudere il buco ho fatto una volata veramente lunga ho sentito che Pini arrivava da dietro, l'ho visto e con un bel colpo di Reni, sì, ce l'ho fatta a vincere ma per veramente poco Bel periodo per la vostra squadra, Covi Svizzera, tu qui, il Team George può dirsi soddisfatto di questo finale di maggio? Sì, stiamo andando veramente forte, sia io che i miei compagni di squadra, Covi dobbiamo dare anche merito non solo a noi due ma a tutta la squadra perché senza di loro non penso che riusciremo ad ottenere questi risultati Grazie a tutti